Buongiorno, io sono Chiara Ferroni, sono responsabile del polo di innovazione CD. Mi rivolgo a voi per presentarvi quello che è il bando Inometro, il bando della città metropolitana che si rivolge alle aziende, micro e piccole, del nostro territorio che sono interessate ad attivare un percorso di innovazione e di ricerca all'interno delle proprie realtà. Lo fa attraverso dei percorsi di accompagnamento dedicati con degli esperti che sono funzionali a supportare le imprese in tutte quelle che sono le fasi di strutturazione di un progetto, quindi dall'idea all'identificazione delle tecnologie necessarie piuttosto che ai partner. Il bando vuole favorire il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca verso le imprese e quindi invitiamo tutte le imprese micro del nostro territorio a partecipare a questo bando perché è un'ottima iniziativa per portare a termine le proprie attività di innovazione e di ricerca.